Tanta gente, tanto entusiasmo, questa sera la presentazione dei 20 progetti finalisti di Pavia Partecipa. Sì, siamo alla vigilia del gran finale, 20 progetti sono arrivati alla fine, stasera ascoltiamo i presentatori che ci raccontano il loro progetto e cercano di influenzare un po' i cittadini. Siamo tutti molto stanchi ma molto contenti perché il lavoro è stato duro, ma mi sembra che il pubblico di stasera ci racconti, ci dica che il progetto sta funzionando. Ricordiamo quando si vota e in che modo si può votare. Si vota dal 4 al 13 novembre, si può votare online attraverso il proprio computer e la propria mail e si vota anche attraverso il voto assistito nelle sedi dei quartieri della città appunto dal 4 al 13 novembre.